e cominciamo la rassegna delle partite delle coppe con un'anticipazione di quello che sarà la rubrica di questa sera euro gol che andrà in onda su questa rete verso le 22 e 50 stiamo seguendo qui la partita del torino per la coppa uefa contro l'apoele di nicosia una squadra di cipro il successo di 3 a 0 siglato dai due gol di paolino pulici e dal terzo gol di claudio sala il torino ha largamente dominato e così come per la juventus di cui ancora non ci sono giunte le immagini da cipro che vi proporremo questa sera in euro gol non ci sono problemi per la passi per il passaggio al turno successivo ancora pulici che impegna il portiere avversario ecco claudio sala la sfortunata conclusione di graziani ancora un'azione proposta da claudio sala è conclusa con un sinistro che batte per la terza volta il portiere cipriota 3 a 0 per il torino